Lei non sa chi sono io. Quante volte ascoltiamo da parte di VIP, da parte di personaggi famosi, una frase del genere? Quante volte ho ascoltato da parte di VIP una frase di questo tipo? Ecco, la mia risposta è tante, tante volte. Eh, ma lei non sa chi sono io. Tu non sai chi sono io. Ecco, questa frase viene detta, lo ripeto di nuovo, dalla maggior parte dei VIP italiani e non solo. Ovviamente in Inghilterra, in America, non so come si dica, ma il significato più o meno è lo stesso. Ecco, ci si mette nella condizione di avere, di darsi una importanza in più. Ci si permette di dire io valgo oro quanto peso. Ci si permette di darsi delle arie. Ok? Questo che significa? Che per il fatto di essere o un VIP o un personaggio famoso, quindi, o un personaggio comunque noto, ci si mette nella condizione di dire, ecco, vedi, io sono un personaggio importante, io valgo qualcosa, io valgo oro quanto peso, io sono una persona di grande, nonché fondamentale capacità. Ecco, questo si va a fare. Ok? Quindi, in genere, lo strumento principe per far capire chi si ha davanti è utilizzare la frase Lei non sa chi sono io. Tu non sai chi sono io. Ok? In questo modo, la persona che la riceve può chiedersi, ma a chi mi sto rivolgendo? Ma con chi sto trattando? Ma costui chi è? Ecco, dire una frase del genere, lei non sa chi sono io, pone, mette in soggezione l'altra persona. L'altra persona si mette nella condizione di dirsi, ma quindi è importante costruire un costello, quindi ha un valore in più del mio, quindi vale oro quanto pesa. Cioè, ecco, questo è il fatto, ok? Cioè, la frase in questione vuole incudere paura, terrore, spavento negli esseri umani, nelle persone, nelle altre individualità umane, ok? Lei non sa chi sono io, tu non sai chi sono io. Ecco, ci si danno delle arie. Eppure, cari utenti di YouTube, quella persona che dice questa frase è un essere umano come me e come te, come me e come voi. Non ha nulla, e ripeto, nulla di diverso tra me e voi. E' una persona con due piedi, con dieci dita dei piedi, con dieci dita delle mani, con due occhi, un naso, due narici, una bocca, dei denti, pelato o pelata o con capelli o senza, quindi? Capelli rossi oppure biondi oppure neri, moro, mora. Occhi castani oppure azzurri, capelli biondi oppure di altri colori. Ecco, non è null'altro, è un essere umano come me e come voi, ok? Ok? Spesso questa frase, ripeto, la sentiamo da VIP, da personaggi famosi. Lei non sa chi sono io. Oppure anche nell'ambito lavorativo, no? Quando abbiamo a che fare con una persona in un ambito, per esempio, pubblico, in un contesto di lavoro impiegatizio, lei non sa chi sono io, lei non sa quanto valo, lei non sa cosa ho fatto per questo paese, lei non sa cosa ho fatto per questa nazione. Quante volte sentiamo questa frase? Tante, tantissime volte. Ecco, noi dovremmo spingerci a capire che questa frase vuole incutere paura, vuole incutere terrore, vuole spaventare, vuole creare divisioni, vuole creare ghettizzazioni, ok? La ghettizzazione è il primo, e ripeto, il primo tassello su cui si basa il razzismo, su cui si basa la discriminazione, ok? Discriminare significa creare delle diversità, creare delle divisioni, creare delle, chiamiamole, alterazioni umane, ok? Io discrimino, lui è diverso da me, io sono diverso da lui, lei è diversa da me, io sono diversa da lei. Cioè, vedete, questo è il fatto, lei non sa chi sono io, ecco, si pone, ci si pone, da parte di chi dice una frase del genere, in maniera più alta, più altezzosa. Ci si adano delle aree, punto, va bene? Tu non sai chi sono io, io valgo più di te. Ecco, in genere, questa frase vuole dire, vuole far capire, io valgo più di te, io valgo più di lei, io ho un valore più elevato del tuo, del suo. Quindi taccia, quindi stia zitto, quindi sei in silenzio, quindi stia zitta. Ecco, si va di fatto, de facto a chiudere i rapporti, si va di fatto, de facto a bloccare le coscienze, a bloccare le persone, a bloccare i concetti, a bloccare quel modo di fare, quel modo di essere che una persona può avere. Si stronca sul nascere l'opinione altrui, si stronca sul nascere le parole di altre persone, si stronca sul nascere ciò che una persona può pensare di un'altra persona, dicendo proprio, lei non sa chi sono io, tu non sai chi sono io. Ecco, sono frasi che non sono di circostanza, ma sono frasi che vanno a spaventare, vanno a creare divisioni, vanno a mettere in sepoltura quei gradi di sicurezza che in teoria ci dovrebbero essere. Va bene? Di fatto, de facto, questa è la mia opinione. E in de facto situazione, io vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, diffondete questo canale, arriviamo, ripeto, arriviamo ai 10.000 iscritti, diffondete il video e il canale in questione, sui gruppi e dove volete voi. Ciao da Leandro, il Conoscitore Italiano.